Natura attiva. RTL cento due cinque. È giovedì tre agosto, buona giornata. Paolo Pacchioni a Verona. È stata arrestata con l'accusa di aver somministrato morfina a un neonato. Secondo lei si lamentava troppo. Maria Paola Raiola. Avrebbe somministrato il tuo punto piaccio per farlo stare tranquillo senza che vi fossero... Il vino di me, baci, eccetera. Il tuo vino viaggia al sicuro e arriva lontano. Cerca il centro servizi più vicino su amie.it People Possible Via Radio Una buona giornata da Donatella al Cinsallo Sulla Questa Tra Pescara Ovest e Bertone in direzione di Bari